Carmignano in festa per la dedicazione della Chiesa del Capoluogo che dopo tanti, tantissimi anni di lavori torna al suo splendore. Sarà un fine settimana di eventi religiosi, culturali e ricreativi che culmineranno sabato alle 19 con una messa accompagnata al rito della dedicazione presieduto dal Vescovo di Vicenza, Beniamino Pizziol. Teniamo molto alla nostra Chiesa, abbiamo sempre cercato di sostenere la parrocchia, ha spiegato il sindaco Bolis, che accoglierà il Vescovo con il gonfalone municipale insieme alla sua giunta. Sono convinto, aggiunge, che la Chiesa oggi più che mai rappresenti un punto importante per la crescita umana e culturale di una comunità.